Un cordiale saluto a tutti i nostri telespettatori. 12 giugno 2022, giorno in cui si decideranno le sorti amministrative della nostra città. Dalle urne verrà fuori il nome del vincitore della competizione elettorale. In questa tornata elettorale solo due sono i candidati alla poltrona di sindaco e naturalmente in quella giornata, perché unica sarà la giornata in cui si potrà votare dalle 7 di mattina alle 23 di sera, i cittadini randazzesi, gli elettori randazzesi decideranno chi dei due candidati occuperà la poltrona di sindaco della città di Randazzo. Questa sera è con noi uno dei due candidati, Nino Grillo, mi consentirai di darti dal tuo, di darci dal tuo, perché ci conosciamo da una vita, io parecchio più grande di lui e quindi penso che sia opportuno anche per semplicità della trasmissione. Io inizierei questo incontro con una domanda molto semplice che dà la possibilità al candidato sindaco Nino Grillo anche di esporre sinteticamente quelle che sono le sue intenzioni amministrative. Cosa intende fare? E quindi la mia domanda è, nei primi 100 giorni dell'amministrazione che tu, nella fortunata ipotesi di elezione a sindaco della città di Randazzo, ecco nei primi 100 giorni della tua amministrazione a quali problematiche daresti la priorità, perché è l'impatto e quindi là si vede a mio giudizio forse la capacità di un amministratore a dare corsa alle cose chiaramente più urgenti, più opportune, più necessarie. Fermo restando poi i 5 anni che completeranno l'iter amministrativo e la sindacatura, di chi andrà ad occupare quella poltrona. Grazie, grazie Salvatore. Noi ci conosciamo dal 74, quindi io ero bambino da pochi anni, avevo 4 anni circa. Ma comunque, innanzitutto devo dire grazie, grazie a Evolutv che mi ha invitato, grazie a te che ti sei prestato a farmi questa intervista e la tua domanda merita, meritevole di risposta, però mi devi far permettere di dire una cosa, noi giorno 18 finalmente di questo mese abbiamo presentato la lista della candidatura, quindi mia sindaco, la candidatura di sindaco, abbiamo presentato la lista esattamente alle ore 11 e voglio elencare prima di iniziare la discussione chi sono i miei candidati, per non sbagliare li leggiamo così e così anche chi sono i candidati designati assessori, perché per legge dobbiamo designare minimo 3 candidati designati assessori che abbiamo fatto così come recita la legge. E allora noi la lista Vivele Randazzo composta da 16 candidati al Consiglio Comunale sono Bonina Vingenza detta Enza, Ceraolo Vingenzo detto Enzo, Crimi Stigliolo Marco detto Crimi, Greco Emanuela detto Emanuela, Gullotto Maria, Gullotto Maria Cristina detta Cristina, lo giudice Carlo Calogero Carlo detto Carlo, Molica Elia detto Stellina, Musili Francesca detta Aidala, Petrina Chiara, Piller Alfio detto Freddi, Portale Verardo, Ragaglia Alfio, Raguni Elisa, Romano Giovanni Epifanio detto Giovanni e Sindoni Saranna. I designati assessori sono Sindoni Saranna, Romano Giovanni Epifanio e Manino Antonino. Quindi con questo cosa voglio dire? Noi abbiamo presentato quindi la lista, abbiamo presentato i designati assessori, abbiamo presentato il programma. Quindi rispondo subito alla tua domanda. Il nostro programma infatti si divide in due aspetti. Il primo impegno, che è appunto quello che dici tu nei primi 100 giorni e poi l'impegno per quanto riguarda invece il proseguo della macchina amministrativa. Innanzitutto il primo impegno che io voglio fare alla città è che il comune deve tornare la casa dei cittadini. Fino ieri al comune si era ospiti. Cosa voglio dire? Ospiti perché la città, tanti si lamentavano del fatto che il primo cittadino non aveva la bontà di avere un orario di ricevimento adeguato, a volte dava appuntamenti e gli stessi appuntamenti non venivano rispettati per vari motivi e invece si passava dall'anticamera della segreteria. Questo non accadrà più, ci sarà l'anticamera sicuramente perché la parte organizzativa dovrà esserci, ma il sindaco che deciderà, in questo caso se avrò la possibilità dei miei elettori e della città di Randazzo di farmi diventare sindaco, il sindaco riceverà agli orari stabiliti la città e non sarà il cittadino da sentirsi ospite ma parte integrante al comune perché il comune deve essere la casa di tutti i cittadini, senza distinzione di chi ha dato il voto, di chi non ha dato il voto perché è una libertà democratica votare chi si ritiene di votare per chi ha dato la fiducia o quello che sia. Una cosa che faremo entro i primi 100 giorni ma perché è fondamentale e indispensabile, il riordino della pianta organica. Noi abbiamo che cosa? Troveremo un comune dove ci mancheranno dirigenti, ci sono dipendenti che sono andati in pensione e che a breve andranno in altre in pensione, quindi ci saranno settori dove soffrono la presenza di personale qualificato e in altri magari abbiamo uno sovraffodamento, quindi l'aspetto fondamentale è il riordino della pianta organica perché se non si riparte da che cosa? Da riorganizzare settori quali quello finanziario, quello urbanistico e quello per quanto riguarda i servizi, i tributi e quello per quanto riguarda i lavori pubblici, ritengo che non si può ipotizzare nessun tipo di procedimento futuro né tra 100 giorni ma neanche tra 5 e 6 anni o quello che sia. Quindi questa è una base fondamentale e finalmente togliere la questione di questi precari perché la questione precari non può continuare più ad essere un annoso problema di discussione di campagna elettorale, si deve chiudere questa vicenda e l'impegno fondamentale è quella che in questi 100 giorni il sindaco, in questo caso l'attuale che verrà eletto, almeno in questo caso io, si farà portavoce tra il Cisper, tra la regione di risolvere questo annoso problema dove c'è la possibilità di farlo anche se tu in tante occasioni già ne hai anche discusso con altri esponenti politici, noi siamo in dissesto e questo è stato un problema alquanto dannoso e gravoso per l'ente perché non è vero che non è stato gravoso e poi che cosa? Sti debiti, noi nei primi 100 giorni dovremmo capire con l'OSLE dove effettivamente questo montante di debiti perché chi parla di 16 milioni, chi parla di 18 milioni, chi parla di 20 milioni, dove sono le somme che sono entrate a modo di liquidità e che non sono più utilizzate e inserite nel conto dedicato per pagare questi debiti, questo è un impegno che dovremmo portare avanti sull'immediato e questa è una cosa che sempre, ripeto, è il volano per partire, per poter poi programmare il commercio, il mercato, tutto quello che sia perché è un discorso che si concatena e questo è l'impegno che noi vogliamo portare avanti, risolvere queste due problematiche subito per far partire la macchina amministrativa perché se non parte la macchina amministrativa ti voglio ricordare che noi non abbiamo fino ad oggi partecipato a nessun bando del PNRR e se non abbiamo gli uffici adeguati a tale scopo non parteciperemo a nessun bando e questa è una grave cosa che voglio dire alla città, sono presentati i bandi del PNRR fino al mese di marzo e il Comune non ha partecipato e non è imputabile al fatto che non c'era l'amministrazione perché voglio ricordare che l'amministrazione al Comune di Randazzo è rimasta in carica fino al 18 marzo e noi abbiamo perso delle grosse opportunità, ora è stato prorogato un bando che scade il 15 giugno, ho chiesto personalmente al Commissario di parteciparvi, dove è possibile farlo perché è un bando di grande interesse per la collettività perché tratta del sociale, delle persone che hanno meno fortuna di altri e questo non è un bando che si possa perdere e poi lasciamelo dire, la programmazione del PNRR nei primi 100 giorni sarà fondamentale, entro ottobre partiranno i bandi per quanto riguarda il rifacimento della rete idrica e quindi noi questo è l'impegno che dobbiamo portare avanti e non è vero come dica qualcuna, perché la voglio definire così qualcuna, non abbiamo le competenze, abbiamo competenze, capacità, abbiamo tutto e non vogliamo lasciare indietro nulla e voglio dire alla città che vivele Randazzo, il mio progetto politico è aperto a tutte le fasce, anche le fasce più deboli e non è vero che salendo il Sindaco Grillo non ci saranno le assistenze, questa è una novità di questi giorni dove le assistenti dicono ai pensionati, ai diversamente abili che se non sale X determinati servizi vengono tolti, assolutamente non è così, i servizi saranno potenziati, aumentati e parliamoci chiaro, il servizio viene dato perché la 328 che viene finanziata a livello regionale viene distribuito alle risorse nei vari comuni, quindi non ci saranno nessuna riduzione di servizi, anzi andremo avanti e porteremo più avanti i servizi a questa città, quindi questo è l'impegno. E poi cosa se a seguire ci dovremmo impegnare per la risoluzione dell'area artigianale Sant'Elia, per la risoluzione del problema dell'area artigianale industriale Pignatuni Arena, questi sono i punti e gli obiettivi con il primo impegno che noi dobbiamo fare all'interno di questi primi 100 giorni, riattivare questa macchina, risolvere questi problemi, oltre che riappropriarci di che cosa? Di questo famoso piano regolatore, perché in questi tre anni e mezzo non si è fatto nulla, bisogna che la macchina riparta su questo aspetto, non possiamo più tenere un piano regolatore che è fermo da oltre 25 anni, dal 1997 e da quando è scaduto, quindi ha bisogno di essere rinnovato, ci ha tentato l'amministrazione Agati, ci ha proseguito un pochettino le varie amministrazioni successive, però poi dal 2000 con l'evento della morte dell'ingegnere Leone, si è fermato tutto, l'amministrazione Sgroi non ha proseguito l'iter di poter proseguire su questa strada, ci dicono che è stato dato l'incarico sul piano regolatore nell'autunno del 2021, ma noi non conosciamo né chi è l'incaricato, non c'è stato mai presentato, io ancora sono consigliere comunale in carica e fino al 12 giugno, io assieme ad altri, non conosciamo chi è il nuovo progettista del piano regolatore, invece avevamo lasciato indicazione di continuare l'iter in quello studio che già aveva seguito per oltre 20 anni, quindi questo percorso, l'amministrazione Sgroi ha ritenuto opportuno cambiare, perfetto, vedremo chi sarà e vedremo che cosa riuscirà a fare, ecco qual è il discorso che bisogna affrontare nei primi 100 giorni, perché se non si affrontano questi temi che sono rimasti in evasi, noi non potremo proseguire a quella pianificazione che porterà questo Paese avanti, perché non potremo parlare di sviluppo, non possiamo parlare di turismo, non possiamo parlare di nulla se non c'è una macchina burocratica che funzioni. E questo è lo scopo per cui noi ci siamo prefissati, abbiamo detto un primo impegno all'interno del nostro programma, già è in rete da diverso tempo, chiunque può leggere, ora metteremo in rete quello definitivo, perché è stato modificato in alcune parti, perché abbiamo avuto indicazioni da parte, perché mettendoli in rete qualcuno, qualche associazione, qualche cittadino libero da steccati, ha voluto dare delle indicazioni e ha voluto arricchire il nostro programma con idee che noi abbiamo sposato, abbiamo inserito perché ritenute utili all'interno di questo programma. Questo è il nostro primo impegno che vogliamo fare, è quello che noi abbiamo scritto appunto come primo impegno e poi che cosa? Tutti parlano di viabilità rurale, si freggiano che tutti sono per la viabilità rurale, ma fino adesso pur essendo stati a vario titolo i rappresentanti comunali, dove in gabinetti vari, dei vari assessorati, mai hanno speso un'idea affinché la viabilità rurale potesse emergere. Oggi ci sono le prospettive di parlare di viabilità rurale perché i fondi si prendono sempre dal PNRR, perché ci sono delle misure che ci aiuteranno e questo è un impegno che noi non possiamo più perdere, perché il PNRR saranno risorse utili a tutti i comuni affinché possano emergere, togliere quelle lacune economiche che non ha, il bilancio comunale non può naturalmente soddispare e fare che cosa? E fare quelle attività che fino adesso non li sono potute fare. Per questo ci vuole la macchina amministrativa che riparte dal punto di vista burocratico, però una cosa la voglio spendere, noi già con la viabilità rurale ci siamo spesi in alcuni settori perché nel 2017 abbiamo presentato il progetto per il rifacimento della strada di Condrada Calderada. Questa misura di finanziamento che nel primo momento sembrava si stesse perdendo è ritornata ed è stato finanziato un importo pari di 500 mila Euro, l'asse Calderada è un'asse importante di viabilità perché oltre che crea l'indotto all'interno dove ci sono delle attività agricole ben definite, tra cui anche vi sono oggi dei viti vinicoltori, ma comunque ci sono attività agricole importanti. Abbiamo chiesto in Consiglio Comunale, abbiamo presentato una proposta noi come gruppo di Vivere Randazzo nell'autunno del 2021 che ora porteremo avanti se io naturalmente sarò e la porteremo anche se sono all'opposizione perché noi batteremo su questo fronte dove chiuderemo l'anello con la strada di congiungimento che dalla Condrada Calderada porta alla strada di Bellinghieri, un'altra asse di aria importante che unisce, quindi quest'anello unisce che cosa? La 120 con la 89 perché arriviamo sulla strada provinciale per il Moio, quindi il Moio Alcaldra. Ritengo che queste sono prospettive che noi vogliamo portare avanti, lo sviluppo del territorio, una cosa fondamentale, i primi 100 giorni serviranno a questo, rivitalizzare la macchina burocratica, rivedere alcuni aspetti per quanto riguarda il riordino quindi amministrativo, il, come si chiama, oltre che il riordino della macchina amministrativa, portare avanti che cosa? Lo sviluppo affinché si possono ricevere i bandi del PNRR e parteciparvi e questo è fondamentale. Poi avevamo già un progetto vecchio che spero che col PNRR lo potremmo fare, la ricapitalizzazione delle acque per quanto riguarda sia le sorgenti e sia le sorgive, quindi parliamo di che cosa? Della sorgiva di San Giacomo, oggi quella condotta va ripristinata in toto e col PNRR questo si può fare, anzi prima voglio, se si va nel lontano 2018 quando per la prima volta ci presentamo come lista di Vederandazzo perché la seconda volta che noi ci riproponiamo alla città già avevamo inserito un project finanza come idea, ipotesi per la ricapitalizzazione delle acque di questa sorgente, dove delle società erano interessate, utilizzando per caduta le microturbine, della realizzazione di energia elettrica, riconoscendoci che cosa? La condotta nuova, sembra gestione comunale, le royalty per quanto riguarda i certificati verdi e loro si producevano l'energia, ma per sebbene stata qualcosa di importante, cosa che invece non è stata fatta, ahimè abbiamo perso e quindi la nostra idea si è accantonata, per andare ad altre idee che ancora non conosciamo, questo è quello che è l'impegno che vogliamo portare avanti. È un impegno molto complesso, certo magari ci vorranno più di 100 giorni, ma l'importante è che vengano, 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 vengano. Mai partire perché se non si parte, io spero che invece non ci vorranno più di 100 giorni, specie per la macchina amministrativa perché abbiamo bisogno, nell'ufficio finanziario del dirigente, abbiamo bisogno di altri dirigenti perché ora a breve qualcun'altro se ne andrà in pensione, qua il problema è che se noi non abbiamo la sostituzione di queste figure e che col 110 si possono fare, in tempo d'anio, perché sono figure in tempo d'anio, noi non potremmo andare avanti perché l'ufficio tecnico soffre della manganza di geometri per poter esplettare le pratiche. Sul 110 tanta gente sta chiedendo sempre e continuamente che le pratiche vengono evase, invece non hanno la capacità, ma non la possibilità, la capacità proprio fisica di poterle evadere. Manca materialmente chi le fa. Oggi siamo ridotti, all'ufficio tecnico abbiamo due geometri che fanno questo tipo di attività e non c'è altro e quindi le pratiche sono tantissime e ci sono dei protocolli lunghissimi da poter sviluppare e questo è un fatto negativo per l'economia stessa della città perché i cittadini aspettano, le imprese aspettano, nel frattempo le leggi si evolvono, cambiano e determinati passaggi e momenti si vengono a perdere. E poi le scadenze sono quelle che sono, quindi tecnicamente questo è, e poi un'altra cosa importante, ridare alla città nei primi 100 giorni i beni comuni. Il bene comune deve essere fruito liberamente da tutti, cambiare quella normativa che ha precluso la possibilità dell'utilizzo dei beni comunali con un pacchetto economico elevato per le possibilità che ci sono in questo Paese. Dobbiamo adeguare il costo al servizio, cosa voglio dire? Utilizziamo la struttura del, a livello gratuito parliamo, utilizziamo la struttura dell'ex cinema moderno, bene abbiamo bisogno per 3 ore di 2 dipendenti, si pagano il costo di 3 ore di 2 dipendenti, non si può chiedere 400 Euro, 800 Euro per l'utilizzo di una struttura che comunque se non viene utilizzata non ha più quella caratteristica per cui nasce. Cosa ben diversa per esempio è se quella struttura viene utilizzata per fare cosa? Cineforum a pagamento, spettacoli a pagamento, allora lì entrano altri aspetti, ma se quella struttura viene data, bisogna che si venga data la possibilità di spazi gratuiti, non si possono pagare costi di un certo tipo, perché oggi le associazioni soffrono anche la possibilità di potersi riunire e dare alla città quel tipo di struttura, quindi di concedere alla città quel tipo di struttura perché si sono nate, quindi spettacoli per chi fa spettacoli, cultura per chi fa cultura, la promozione di un evento, di un avvenimento, di un periodo, di un giorno, di un altro tipo di… per esempio l'altro giorno c'è stato organizzato all'ex cinema moderno la giornata che voglio oggi anche ricordare il venerdì dei 30 anni della morte di Borsellino nella strada di Capace, quindi la giornata sulla legalità, bene, è stata per non pagare chi l'ha organizzata, quindi sono venuti i noti personaggi, si è dovuto cercare il patrocinio del Comune, ritengo che il patrocinio del Comune innanzitutto deve essere garantito e a tutti, nel senso che deve essere regolamentato, noi se chiamiamo il patrocinio dobbiamo fare il regolamento sul patrocinio che non esiste, non può essere di libero arbitro del Sindaco che a Rizzeri dà il patrocinio e a Nino Grillo non dà il patrocinio, ritengo che è una cosa che comunque non può stare né in cielo né in terra, se dobbiamo chiamare le cose col proprio nome, il patrocinio va regolamentato con un regolamento apposito, un regolamento ad hoc che parli di patrocinio e per dare il patrocinio il regolamento deve dire, bene, il patrocinio viene dato a queste condizioni, per queste tipologie di attività e per quest'altra tipologia di attività, ecco questo. Io passo a una seconda domanda ed è una cosa che mi sta particolarmente dal cuore per quella che è la cosa che ho seguito particolarmente come hobby, come studio negli ultimi 20-30 anni. Tutte le amministrazioni, e spiego esattamente di che cosa si tratta perché interessa molto soprattutto l'aspetto, proprio quest'ultimo aspetto che tu hai citato, quello culturale e quant'altro. Ebbene devo dire questo, tutte le amministrazioni succedute dal dopoguerra in poi, quindi non si tratta di una cosa degli ultimi anni o degli ultimi decenni, hanno totalmente trascurato, a mio giudizio, è un giudizio mio chiaramente, una delle prerogative più importanti che la città potrebbe offrire. L'aspetto proprio culturale, artistico, monumentale, paesaggistico, che è di enorme interesse. Noi sappiamo che ormai ci si muove con molta facilità. Dal centro Europa si arriva in Italia in un'ora, un'ora e mezza di volo, abbiamo la fortuna di avere un aeroporto a neanche un'ora di strada da Randazzo, abbiamo un territorio ricchissimo, abbiamo una città che per quanto riguarda l'aspetto culturale, artistico, monumentale, per quello che può offrire, nonostante le distruzioni che ha subito dal 13 luglio al 13 agosto del 1943, la città è stata distrutta al 75%, può offrire ancora tantissimo, abbiamo un patrimonio culturale che pochissimi hanno. Ebbene, questo patrimonio viene totalmente trascurato, perché non è assolutamente vero che la cultura non dà economia e non fa economia, perché altrimenti potremmo portare, potrei portare non qualche decina, ma qualche migliaio di esempi, di centri che non hanno le nostre quantità, il termine forse non è proprio adatto, la gran quantità di cose che noi possiamo dare ai visitatori, eppure questo settore viene totalmente trascurato. Ci capita spesso che visitatori che riescono a sapere, a conoscere cosa è Randazzo, cosa può offrire, proprio si lamentano di questo fatto, nessuna amministrazione ha tenuto conto della grande possibilità economica, del grande sviluppo economico in termini di posti di lavoro, in termini di ricchezza. Io vorrei ricordare che il comune di Gangi, in provincia di Palermo, con un sindaco che devo dire di grande qualità, di grande preparazione, ha risanato il centro storico senza spendere una lira, facendo quel progetto delle case abbandonate a un euro, per primo l'esempio l'ha dato lui perché aveva un locale e lo ha messo a disposizione, chiaramente non sono cose che si possono fare dall'oggi al domani, ma nessuno ha messo mano a una cosa del genere, ultimamente anche un paese vicinissimo a noi altri, Castiglione di Sicilia, è intervenuto in questo senso, basta girare per le vie di Randazzo, soprattutto nel centro storico, ci sono case abbandonate che non si sa di chi sono, non si è mai proceduto a un elenco, a un inventario, a cercare i proprietari, ecco io ritengo, e in questo lo chiedo al candidato sindaco Nino Grillo, così come ci spiegò un po' di anni fa questo sindaco, perché noi lo andammo a intervistare per più di due ore, ci spiegò esattamente cosa aveva fatto, ebbene Gangi oggi ha un centro storico che è stato ricostruito totalmente con i soldi di quelli che hanno acquistato questi immobili, ristrutturandosi sulla scorta delle indicazioni della sovrintendenza, perché si tratta di centro storico, con un impegno entro i due anni, e se non ricordo male, ma lo ricordo benissimo, ne parlò Canale 5, cioè una delle due televisioni più importanti, oltre al servizio pubblico, in un telegiornale delle 8 di sera, non quello che non vede nessuno, portando questo esempio, ebbene questo sindaco ci ha detto, oltre ad aver ristrutturato tutto il centro storico senza spendere una lira, voi non avete idea di questa gente che viene qua e non rimane solo la classica toccata e fuga che noi vediamo a Randazzo, dove sì e no riescono a prendersi il caffè e non sempre, vengono qua per mesi e significa economia, significa gente che lavora, significano soldi che entrano in quel paese e quindi che possono, anche se vengono utilizzate da quell'amministrazione. Randazzo da questo punto di vista è stato totalmente assente. Noi Salvatore ti ringrazio di questa invita e di questa domanda, è quello che dici tu, fra l'altro scusa, poi mi taccio ovviamente, il turismo distanziale che può dare Randazzo è completamente diverso da quello di Giardini Naxos o di Taormina, perché lì si limita ai mesi estivi perché offre il mare. Randazzo usufruirebbe di un turismo che va dai giovani ai meno giovani perché abbiamo la possibilità della montagna, dei beni architettorici, dei beni artistici, non solo, ma ripeto, abbiamo anche la fortuna di essere a forse meno 30-35 km dal mare, quindi anche il periodo estivo, oltre a offrire quello che offre... Siamo esattamente a 40 minuti dal mare. E se le strade fossero in condizione migliore, ma questa non è colpa della sola amministrazione di Randazzo, in un quarto d'ora, 20 minuti si andrebbe al mare e in 20 minuti si potrebbe tornare, quindi avremo anche la spiaggia alle porte di Randazzo. Io ti ringrazio per questa domanda, ti rispondo già dicendoti tre cose. Primo, noi abbiamo fondato il programma sulla base di quello che tu hai testato prima. Cosa voglio dire? Chi avrà la voglia di leggere il nostro programma, da pagina 4 fino a pagina 11, parliamo di queste cose. Cosa voglio dire? Promozione, iniziativa di case Oneuro, case del Borgo e altri incendivi dei trazioni per il recupero edilizio del centro storico. È una base fondamentale, perché quando parliamo di piano regolatore, è questo che noi dobbiamo accentrare. E questo è uno di quegli aspetti che può essere inteso, è fatto già da subito, entro i 100 giorni, perché la casa di ruta del centro storico ha bisogno di essere rivalutata, perché il centro storico, se non si fa parlare, cosa dico parlare? Parlare significa che il centro storico deve essere rivitalizzato e la rivitalizzazione del centro storico va anche con togliere queste problematiche di queste case antiche, belle, che devono essere ristrutturate. Chi lo può fare? Tramite lo può fare chi? Chi ha la voglia di fare tutto ciò? Ci sono tante case che sono state lasciate abbandonate, il Comune li recupera, li recupera e li cede a chi ha la volontà di farlo. Castiglione di Sicilia, che ha fatto questo progetto da qualche anno, perché è stata un'iniziativa promossa… Non è molto, è di poco tempo. Ma perché la progettazione di case Oneuro proprio legiferata dalla regione siciliana, è stata fatta, se non vaderato, nel 2018-19 e quindi è una cosa innovativa, recente e nuova. Castiglione di Sicilia, grazie all'architetto Leonardo, che era lì dirigente, capo del servizio urbanistica e lavori pubblici, ha captato questa idea e l'ha portata avanti. Stessa idea che si voleva fare su Randazzo, non c'è stata possibilità di farlo, perché voglio ricordare che il consigliere Ceraulo l'ha proposta in consiglio comunale, ha portato tutto il pacchetto che potesse dare questa iniziativa. Non è stata accolta, ma noi invece l'abbiamo, perché Ceraulo è candidato nell'emilista, l'abbiamo sposata a pieno e l'abbiamo inserita già nel programma, ma non da adesso perché ne stiamo parlando stasera, già da quando l'abbiamo stilato e pubblicato, da oltre un mese che abbiamo pubblicato questo programma. E il turismo, hai pienamente ragione, il valore aggiunto della città e la nostra stessa città. Vivere Randazzo, l'acronomo Vivere Randazzo nasce appunto da questo. Randazzo sarà con prospettiva, con l'idea di sviluppo anche su questo settore turistico e via dicendo, il futuro dei nostri concittadini, della nostra città. E Vivere Randazzo appunto è questo, le bellezze architettoniche, la sua medievalità, il paese medievale. Questo è un brand che ci invidiano tutti e che fino ad oggi, hai detto bene tu, è stato poco valorizzato. Ci sono dei comuni che hanno una sola cosetta, noi ne abbiamo decine. Noi abbiamo tentato in anni diversi a questi di divulgare e promozionare questo paese all'esterno. In parte ci siamo riusciti, ma naturalmente sono mancate tante cose che oggi, appunto perché il PNRR mette anche in moto questi meccanismi, possono essere tra virgolette, ma dice, ma tutto ruota attorno a questo PNRR, ma il PNRR sono finanziamenti e bandi europei che ci possono dare delle opportunità, anche di sviluppo del centro storico. Per esempio, una cosa che non si è mai fatta e che da tanto si parla di questo centro storico di Randazzo, non si è mai fatta la zonizzazione del paese, nel senso che comunque noi abbiamo tre, e tu conosci meglio di me, abbiamo tre quartieri, i tre grandi quartieri dal centro storico, e questi tre grandi quartieri avevano tre identità diverse, ma questa è una cosa da sviluppare, perché San Martino ha una sua storia, Santa Nicola un'altra, Santa Maria ne ha un'altra, ecco dov'è che va inteso recuperare il centro storico, non si può uniformare. Io aggiungerei un'altra cosa nella proposta. E penso che sia fattibile, dal momento che l'acquisto di questi immobili ormai inutilizzati si potrebbe per incentivare l'avvenuta a Randazzo di gente non randazzese, perché il randazzese che ha la casa non ne va a comprare o ristrutturare o spendere soldi per una seconda casa, per il piacere, non solo proprio, ma per il piacere del comune. Alcuni di questi comuni che hanno utilizzato questa bellissima iniziativa, Savoca, Ganci, Castiglione Sicilia e tanti altri, hanno unito a questo fatto proprio per far venire gente da fuori, ma non solo, eliminando per esempio, dando la possibilità per due anni, per i primi tre anni e una volta completare l'esenzione dal pagamento dell'acqua o di qualche tassa comunale. Si fa maggiormente non tanto sulle tasse comunali, perché per esempio l'eliminazione, la riduzione della Tari, faccio un esempio, la riduzione del costo del canone idrico. Che limitatamente ha due o tre anni, in realtà, questo attirerebbe moltissimo. Ma questo lo vogliamo fare anche, ascoltami che è importante, anche per il rimpopolamento delle giovani coppie, perché noi dobbiamo anche dare l'opportunità ai stessi cittadini di poter far riviverlo questo centro storico, perché il centro storico non può essere solo un pacchetto turistico, ma deve essere rivitalizzato anche con la possibilità della popolazione che lo venga ripopolato, perché è importante, perché naturalmente rimpopolare il centro storico significa farlo rivivere. Oltre al fatto che le opportunità delle casone o lo possono dare maggior offerta alberghiera, quindi la creazione di B&B, la creazione di quello che comunque vuole il turista. Il turista vuole il B&B rispetto all'albergo perché essendo nel centro storico non ha bisogno dell'autovettura o di quello che sia, esce da casa e sta all'interno del proprio luogo direttamente. Quindi questo è una cosa che per noi è basilare ed è di sviluppo, perché noi abbiamo creato il nostro programma su tre capisaldi fondamentali, turismo, cultura e agricoltura. E questo è una cosa che si sposa e in questo Paese abbiamo capito in alcuni momenti fondamentali che funziona. Perché funziona? Perché oggi abbiamo l'offerta culturale molto elevata, anche se è stata sottaciuta in questi tre anni, ma c'è un potenziale. Abbiamo l'offerta per quanto riguarda i beni monumentali e storici e architettonici di questo Paese, che in questo periodo è stato frenato, non so perché, ma non voglio neanche entrare in questo aspetto, ma che noi vogliamo fare riemergere appunto con la promozione di questo territorio. Abbiamo tre musei che nessuno ha, ma non solo che... Avevamo un museo di pupi siciliani che oggi è... nessuno sa più dov'è perché è stato spostato nuovamente, ma che comunque prima, anche interessato da delle compagnie quali Fratelli Napoli, venivano a fare che cosa? Gli spettacoli per i bambini, perché vuol dire che il nostro museo non è un museo di poco condo, ma è un museo invece molto pieno di questi pupi che comunque nella collezione forse ce ne mancano uno o due di quella collezione proprio che ci supera forse Palermo, se non vado errato, o Agrigeno, non mi sto ricordando da bene il luogo. E il museo archeologico, tu sai, dobbiamo coinvolgere la famiglia Orsi, che potrebbe arricchirsi con il museo archeologico, che all'Orsi Siracusa ha messo a disposizione del randazzo e che non vengono portati al randazzo. E questo ti prometto che sarà un impegno che faremo assieme, so che tu fai parte anche delle associazioni culturali, sicuramente faremo assieme. E questo è una cosa importante, perché noi crediamo in questo aspetto. Quindi la cultura altro se non porta turismo. È un turismo che deve sposarsi, peraltro noi abbiamo dei beni. Ci sono cittadini che vivono economicamente solo di turismo. Ritengo che non tutti possono trovare spazio su questa tipologia, però è un valore aggiunto. Allora l'agricoltura dà il suo valore aggiunto, il turismo dà il suo valore aggiunto, l'enogastronomia sposandosi con l'agricoltura dà il suo valore aggiunto. Noi siamo riconosciuti ormai nell'Interland di un'arte culinaria appreggiata. I nostri ristoratori producono piatti ormai all'avanguardia, quindi tanta gente viene appunto per gustarci i funghi, le spalacogne, chiamiamole così, o i prodotti che si ricavano da questi prodotti che ho appena detto. Il vino, poi naturalmente ormai è diventato il nostro vino dell'Etano, ormai è una cosa di fama mondiale, riconosciuto ovunque ed è pregiato. Le nostre cantine, ci sono anche cantine di locali randazzese, io voglio fare un applauso a questi ragazzi di Randazzo che stanno promuovendo la loro iniziativa nell'ambito agricolo, perché ce ne sono 3-4 che effettivamente si stanno portando avanti al punto che addirittura qualcun'altra sta sposando vino e olio. Quindi ritengo che su questo settore si può creare realmente qualcosa in più, Randazzo può rivivere realmente quella fama che aveva negli anni 60 e 70, perché Randazzo è un paese dove al crocivia di 3 grandi arterie statali, la 116, la 120, la 284, non la possiamo dimenticare. Randazzo è un paese che deve essere rivisto sopra tutti gli aspetti e per fare questo non basta solo essere ordinato, deve essere riconosciuto e deve entrare in quei circuiti, anche per quanto riguarda, per esempio, noi abbiamo pensato a creare quel circuito anche della cultura, maggio dei libri, lo sai no? E quello potrebbe essere un momento, perché noi abbiamo una bella biblioteca, abbiamo un bel pacchetto all'interno della biblioteca, che in questi anni è stata chiusa per vari motivi, ma che deve ritornare pubblica e deve essere riaperta alla città. Da troppo tempo è chiusa. È chiusa, te lo spiego subito da quando? Dal 2015. E quindi? Esattamente la bellezza di 7 anni. Sono 7 anni. 7 anni che non ha trovato, oggi sembra che abbia trovato una collocazione, la valuteremo, la vedremo. Voglio ringraziare innanzitutto i volontari che si sono prestati, a prescindere dall'appartenenza, sono volontari e quindi hanno fatto un grosso lavoro all'interno di questa struttura, ma la cultura deve riemergere in questo Paese. Dobbiamo far rivivere realmente Randazzo, dal punto di vista culturale e artistico e non solo, dobbiamo pubblicizzarlo, dobbiamo investire tantissimo affinché i tour operator possano trovare in Randazzo quel pacchetto utile per la promozione per il turismo. Oltre al fatto che non voglio dimenticare che il versante che noi abbiamo dell'Etna, abbiamo dei percorsi naturalistici che sono favolosi, oltre che ai percorsi naturalistici ci sono delle grotte formatosi dalle vecchie colate laviche, abbiamo Grotta del Burò, Grotta del Gelo famosa, Grotta Lamponi, Grotta del Palomba chiamata. Io dico che ci sono dei percorsi bellissimi, oltre a quello che si sta creando sui Nebrudi, perché voglio ricordare che sui Nebrudi si stanno creando percorsi con le Monda Bike. Qua c'è un'associazione che sta facendo il campionato regionale, che ora sembrerebbe che si faccia il giorno 29 maggio con grandi sacrifici di Monda Bike, con un percorso all'interno dei Nebrudi. E non sono cose che non portano la conoscenza di questo paese fuori. Necessitano però le strutture. E bisogna, ma necessita che cosa? Che le amministrazioni stiano vicine a queste associazioni che si spendono per questo territorio. Perché queste associazioni si spendono per questo territorio, perché credono in questo territorio. E le amministrazioni devono essere utili e vicine a loro. Certo, ci sono momenti di difficoltà, lo abbiamo detto prima con il distesto economico, abbiamo difficoltà, ma comunque bisogna assieme alle attività, a chi ci crede realmente, portare e promuovere il paese all'esterno. E solo così possiamo vincere che cosa? Una parte della disoccupazione. Perché Randazzo ha tante figure di persone che studiano all'università che invece che vadano fuori possono benissimo anche trovare spazio lavorativo all'interno di questa città. Bene. Abbiamo spaziato un po' a 360 gradi. Ecco, in conclusione. E voglio invitare, infatti poi in conclusione io ho messo una cosa nel mio programma, guarda, una cosa bellissima, che tu forse in quel periodo la conosci anche, se ti ricordi, ed è, l'ho chiamata appunto nel programma l'ultima pagina, i sogni realizzabili. Quali sono i sogni realizzabili? Se ti ricordi, si parla tanto di che cosa? Si parla tanto di San Giorgio, il monastero. Tu hai fatto l'amministratore per un periodo limitato, ma non è importanza, l'hai fatto. Quattro anni di consigliere comunale, sei mesi di assessore alla complica estruzione. Se ti ricordi, in quel periodo che nacque il Proust, te lo ricordi? Esattamente, tu eri assessore, sono invaderato da poco nomina, ci fu l'idea di creare, perché si era presentato, già con la precedente amministrazione vecchio, bisogna riconoscere la presentazione della progettazione, poi il proseguo, si cercava di inserirlo all'interno del Proust, il monastero di San Giorgio, la riqualificazione e col Proust si cercava di creare la città universitaria con l'istituto di architettura di Reggio Calabria. Te ricordi questa cosa? Bene, noi questo dobbiamo puntare, perché Randazzo, questi sono dei sogni che potrebbero diventare realtà, le strutture ci sono, Randazzo deve rinascere e deve avere quella centralità all'università tale da far sì che con gli studi post laurea gli studenti possono venire qua e fare le tesi o fare alcune pubblicazioni su quello che è questo territorio e da lì si era iniziato, poi questa cosa non so il motivo qual è stata negli anni successivi, si è perso, però bisogna riprenderli, bisogna riprenderli perché la mia idea di sogni realizzabili, uno è questo e l'altro è la creazione di due parchi suburbani, uno nell'area dell'ex Ferrovia dello Stato, perché era anche quello inserito in quella vicenda, è una cosa che ci manca, ci manca perché noi l'accoglienza, cosa voglio dire? Io l'ho detto anche nel 2018, io ho sempre visto dietro all'ex Macello la creazione di un parco suburbano dove il turista abbia a Miri le mura di cinta e possa ristorarsi nel momento in cui viene depositato dal pullman e si trova poi in un percorso che va all'interno del centro storico passando dalla via Pignataro, noi non abbiamo un parco suburbano in questo Paese, ma la realizzazione sarebbe qualcosa di eccezionale, allora io mi ricordo, era una cosa che chiesi all'azienda forestale, era disponibile, disponibile alla realizzazione, purché noi concedessimo quell'area a loro utilizzo, ma noi non ci interessa, noi la possiamo concedere, nel senso che loro ce la ripristino, fanno la manutenzione ordinaria e straordinaria e noi abbiamo un'aspettativa di dare al turista che arriva un qualcosa di innovativo, che a Randazzo non c'è, perché abbiamo una bella struttura che è il parco, il diamanio sciarone, ma è distante dal centro storico, quella è una cosa che va rivista in un altro aspetto, un aspetto di joking, un aspetto di percorsi naturalistici dove lo stesso cittadino possa fare la sua passeggiata, possa fare il suo percorso vita, va rivalutato a quell'area perché è molto amata e ambita dalla città. Bene, in conclusione? In conclusione il 12 giugno vi chiedo un voto alla lista di Vede Randazzo e al candidato Grillo Antonino Dettonino, perché è importante, il nostro progetto è ambizioso, ma sicuramente è un progetto che guarda al futuro della città e voglio che investa a 360 gradi tutte le categorie di questo paese, perché è importante far sì che il cittadino ritorni a essere parte centrale della politica di questa città, perché è importante crescere e far crescere i nostri giovani affinché possano trovare nel paese di Randazzo un motivo in più per restare e far ridurre quella migrazione che negli ultimi anni sta portando fuori dalle mura di questa città, tanti e tanti giovani di questo paese. Bene, si conclude qua l'incontro col candidato sindaco Nino Grillo che ringraziamo per la partecipazione. No, grazie a te Salvo, grazie a te, grazie a Euro TV innanzitutto che è sempre un piacere venire in questa emittente. Diamo l'opportunità a tutti, democraticamente. Perché io è dal 1994 che faccio politica in paese e a cicli la prima emittente con cui mi sono sempre tra virgolette interfacciato è stato sempre Euro TV, una volta si chiamava un altro nome però poi si è trasformata in Euro TV. Quindi ringraziamo il candidato sindaco Nino Grillo e diamo appuntamento alle prossime trasmissioni perché di 4 a 12 giugno penso che ci saranno anche altri incontri con un po' tutto quello che è l'apparato politico che si è messo in campo per le elezioni del 12 giugno 2022. Grazie a tutti. Una buonasera a tutti e un buon proseguimento con i programmi di Euro TV. Grazie, grazie, arrivederci.